Musica Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna il nostro sito è www.salsacaribedance.com e proseguiamo il nostro studio della salsa portoricana oggi vedremo la base, il giro a destra dell'uomo e il giro a destra della donna passo la parola a Loretta Ciao a tutti e come già ha spiegato Claudio andremo a vedere le tecniche di giro sia per quanto riguarda la donna sia per quanto riguarda l'uomo parto sempre io, vediamo subito i primi passi della vuelta a destra allora la donna, contiamo i primi tre passi della sua base mambo e sono 1, 2, 3 adesso entriamo proprio nel vivo della vuelta a destra, del giro a destra quindi il 5 è un passo di sinistro avanti al 6 pernando sulle messe punte faccio un mezzo giro verso a destra e al 7 spingendo bene sull'avampiede destro continuo il mio giro tornando frontale avendo cura al numero 7 di avere il mio piede leggermente indietro piede sinistro logicamente e il peso sopra dopodiché passerei invece alla spiegazione dei passi da uomo che Claudio vi illustrerà in questo momento allora per quel che riguarda l'uomo la partenza è al tempo 1 quindi andiamo in avanti col sinistro 1 leggermente piegato torniamo, ci giriamo a destra sulla gamba destra premiamo sull'avampiede destro e facciamo il nostro giro dopodiché proseguiamo la base chiudiamo 5, 6, 7 insieme sarà il primo giro a destra della donna poi il giro a destra dell'uomo in una base alternata o base mambo come l'abbiamo chiamata precedentemente sarà questo base 1, 2, 3, 5, 6, 7 giro a destra della donna 1, 2, 3, 5, 6 e 7 avendo cura, mi raccomando quando lo facciamo in riscaldamento da sole a tenere sempre le nostre braccia vicino ai nostri fianchi mai giù in questa posizione l'uomo invece per l'uomo iniziamo sulla base quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7 andiamo 1, 2, 3, 5, 6, 7 anche qui le mani, le braccia devono stare non a penzoloni ma diciamo su adesso la sinistra l'ho tenuta su la destra vabbè ho il microfono di conseguenza ho un po' di difficoltà io però farei fare farei vedere anche nell'altra direzione i nostri passi giriamoci di schiena quindi per guardare meglio la donna solamente il giro la vuelta quindi farà 1, 2, 3, 5, 6, 7 l'uomo l'uomo solamente la vuelta quindi partiamo subito 1, 2, 3, 5, 6, 7 ok detto questo mi raccomando ripassate i passi a casa da sole provate a farli e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.